PORTO RICO PORTO RICO SEMPRE NELLA FAMIGLIA DI BRINCOS che abbiamo detto in spagnolo vuol dire salto, insomma, dei piccoli salti, degli accenti abbiamo un passo che per un papito chiamava BRINCOS e lo faceva otto volte di seguito in realtà è interessante questo passo perché praticamente dobbiamo fare un modo di fare un cambio di peso che poi ci permette di andare sempre con l'impulso quindi PAH, 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 vedi? c'è questo cambio che fa sì che praticamente il piede davanti cambia e porta in avanti a questo punto vado in avanti e chiudo quindi sarà due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto quindi come vedete questo piede va a marcare in realtà il quinto tempo che con l'impulso, praticamente nella clave è due, tre quindi sarà PAH, 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 PAH PAH, 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 PAH PAH PAH, 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 PAH Quindi sulla ponga sarà A questo passo ci aggiungiamo subito quello che il partito chiamava bahata con cruse vuol dire una discesa che poi è una cosa più in realtà femminile anche se l'uomo la fa con molta decisione che poi porta a un incrocio dei passi il famoso crusa-crusa dove praticamente incrociamo bene le gambe lo facciamo tre volte l'ultima volta usciamo sempre con impulso questa bahata invece la facciamo al centro una volta che andiamo inchietro ovvero due, tre, quattro, sei, sette, otto vedete sono l'ho sceso dritto senza piegarmi e risalvo a questo punto faccio il cruse due, tre, qua vedi? il cruse è anche empatizzato dal movimento del corpo che va da una parte e va dall'altra dopodiché spingo qui in realtà marco solamente due tempi due, tre, quattro tre tempi due, tre, quattro sei, sette, otto due, tre, quattro chiaramente la donna può dare anche dei calci qui eh che è molto tipico l'importante è che il calcio lo diamo sempre con la punta stirata e non come se dessimo un calcio a un pallone poi qui chiaramente ci sono tutta una variante le donne anzi di papito sono famose per questi crusa-clusa però nella sua sequenza basica e la bala conclusa era questa ovvero un pan bala pan due pan 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 sei pan 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 e esco tum tum cacalacan pan tum tum pan perfetto a questo punto con la ritmica facciamo abbiamo detto brinkos otto volte e poi la bala brinkos uno due tre quattro cinque sei sei un quattro cinque sei sì tè quanto quattro adesso barra l'osè posiamo le 3 3 3 6 7 8 11 12 2 3 4 5 6 7 8 Mahana A A A 1 1 1 Ok 1 1 1 1 1 1 1 1